Grazie, Presidente. Visto che noi studiamo eppure tanto, quindi rimandiamo al mettente il collega Foti le accuse, oggi per il Parlamento italiano e invece per tutti i cittadini e le cittadine non è certamente una bella giornata, perché con la proposta di legge in esame si vanno a toccare dei principi cardine costituzionali che fanno parte della nostra democrazia, della storia del nostro Paese, della laicità del nostro Stato e rappresenta purtroppo un passo indietro per la nostra civiltà. Abbiamo tentato in tutti i modi, con tutti gli strumenti democratici possibili fino all'ultimo, quindi provandoci veramente fino alla fine, perché per mettere in discussione un testo così pericoloso, così forviante, che si appella in modo protestuoso all'esigenza di garantire il corretto governo del territorio per limitare la possibilità degli enti del terzo settore, che non sono regolati sulla base d'intesa, a svolgere le proprie attività istituzionali. Ed è lo stesso presentatore della proposta di legge il collega Fodi, che tra l'altro l'ha confermato nell'unico intervento che ha fatto in quest'Aula poco fa, che ci ha descritto di quali associazioni si tratti. Senza usare mezzi termini, si sta parlando delle comunità islamiche che a suo dire avrebbero utilizzato il grimaldello dell'articolo 71 del codice del terzo settore per insediarsi nel territorio italiano, creando moschè e madrasse nella completa indifferenza delle istituzioni, in spregio alla legge e nella sostanziale impossibilità a intervenire da parte delle forze dell'ordine. Ecco, parole dorissime che sembrano seguire il detto fare di tutta l'erba un fascio, purtroppo. Alla maggioranza e al Ministro Salvini, che purtroppo non vedo qui, non l'abbiamo visto in Commissione, pur ringraziando il sottosegretario presente, chiedo tramite lei ovviamente, Presidente, se si sono resi conto di cosa si sta provando oggi, delle conseguenze che questa proposta di legge porterà. Mi chiedo sempre tramite lei e chiedo alla maggioranza e al Governo, Presidente, se si sono resi conto della natura discriminatoria della norma e, guardate un po', in Italia vince il divieto di discriminazione rafforzato proprio dalla Sagra, la città dello Stato, uno Stato che dovrebbe supportare e promuovere leggi e agende politiche che vanno a garantire inclusione, uguaglianza e opportunità per tutti e tutte. Le istituzioni, tutte, dovrebbero essere lo specchio della diversità e dell'inclusione che vogliamo vedere nella società. Ed è questa la visione del Paese che hanno la Presidente Meloni, il Ministro Salvini e tutta la maggioranza. E questa è la priorità. La storia non ha davvero insegnato nulla. Lo Stato italiano, infatti, non deve fare da garante di una o un'altra fede religiosa, ma deve assicurare a tutta la comunità di professare liberamente qualunque fede religiosa. E proprio il carattere di Stato e comunità il principio solidaristico impongono a nostra Repubblica di riconoscere e tutelare le religioni nelle dimensioni individuali e quindi sociali. Voglio ricordare che per effetto delle modifiche che state introducendo all'articolo 71 del Codice e all'Associazione di Ispirazione Islamica verrà riservata una disciplina molto più restrittiva, che sarà demandata poi ad un decreto ministeriale che dovrà tener conto del rispetto degli standard di sicurezza e accessibilità dell'impatto delle attività svolte nei locali sul tessuto urbano. Ecco, mi chiedo quale sarà l'oggettività di stesura di questi parametri che il Ministero dovrà definire? Quale sarà l'oggettività? Perché noi l'abbiamo chiesto in Commissione, ci abbiamo provato, ma purtroppo non abbiamo assolutamente ottenuto risposte. E qual è l'ultimo, proprio il fine ultimo di un simile accanimento normativo? Come sapete esiste già una normativa regionale nazionale che disciplina e tutela proprio questi aspetti? Io un'idea ce l'ho e oggi è stato palese quando nel Comitato dei Nove abbiamo letto un emendamento dell'onorevole Iezzi, che poi è stato in invito a ritiro, quindi è stato ritirato, però mi preme leggerlo perché con questo emendamento si capisce la finalità di questa proposta di legge, in cui si dice che all'articolo 71 del Codice del Terzo Settore va aggiunto tra le varie cose. Io lo leggo testualmente perché questo testo era capricciante. Allora, precludere la destinazione al culto qualora in un'area compresa entro il raggio di un chilometro sia presente un edificio appartenente ad altra confessione o associazione religiosa. Ancora, prescrivere l'uso della lingua italiana sia per le attività di predicazione che per le attività pubbliche non strettamente collegate all'esercizio di culto e ancora, prevedere l'adozione di statuti che contengono l'esplicito riconoscimento dei seguenti principi. Tra i principi ne leggo solo due. Il primo, democraticità e la città dello Stato italiano. Ora interessa la città dello Stato. Prima per approvare questa proposta di legge non esiste la città dello Stato? Benissimo. Il secondo principio rispetto della vita e della salute dell'uomo in tutte le sue forme e di vieto di pratiche a ciò non conformi. E poi continua con una serie di assurdità. Tanto che l'onorevole Iezzi ha detto che è pronto già a depositarlo nel primo provvedimento utile. Noi lo aspettiamo nei prossimi decreti di sicurezza. Voglio capire poi come farà ad inserire una norma del genere. Adesso essere approvata anche dai colleghi di minageranza che penso hanno una dignità anche nell'approvare una norma del genere. Del resto avete già fatto a Monfalcone con una sindaca della Lega che ha tolto il luogo di culto a una comunità islamica che per Monfalcone rappresenta il 30%. Quindi già avete iniziato un po' questo percorso. Utilizzare strumenti messi a disposizione dell'ordinamento per intaccare i diritti di libertà che sono costituzionalmente tutelati è un'operazione che crea un pericoloso precedente, che è un precedente giuridico, un precedente istituzionale, un precedente sociale, un precedente culturale. Già ci avete provato nella precedente legislatura e grazie al Movimento 5 Stelle è un emendamento soppressivo che poi è stato interrotto l'esame. In questi mesi invece in Commissione è successo un po' di tutto. Ogni volta che ci si riuniva per portare avanti questa proposta di legge ci si presentava con un testo nuovo, tanto che il testo iniziale della proposta di legge depositata alla Camera è completamente diverso dal testo che noi oggi stiamo per approvare, che è stato tra l'altro cambiato questa mattina. Quindi veramente un goffo tentativo fatto probabilmente per rendere il testo più presentabile. Veramente avete messo una pezza che è peggio del buco ed è inconcepibile che una norma di questo tipo possa fare ingresso nel nostro ordinamento perché a voler essere generosi disattende almeno sei principi e diritti costituzionalmente garantiti nell'articolo 2, nell'articolo 3, 7, 8, 19 e 20 della nostra Costituzione. Ecco, la nostra Costituzione fortunatamente si fa garante per tutte le confessioni religiose e la mancata intesa con lo Stato non può rappresentare una discriminante. State usando le istituzioni, ma purtroppo ce ne date prova, decreto dopo decreto, atto dopo atto, state usando le vostre istituzioni e la carta costituzionale in un modo totalmente distorto a vostro uso e consumo, creando una disparità e un integralismo che non farà bene a nessuno. La vostra è solo una becera propaganda. Siamo in vista delle elezioni europee, così come state facendo per l'autonomia differenziata, così come state facendo per il Primerato, così state facendo per questa proposta di legge, per darvi dei contentini elettorali, perché di questo si sta parlando, perché altrimenti è inconcepibile che possa passare così nel silenzio anche della stessa maggioranza. Quindi l'ordinamento deve essere arricchito di strumenti che servono per l'integrazione, per l'inclusione e non sicuramente per creare una disparità, anche perché la diversità è una ricchezza, non è una barriera. La diversità ci aiuta nell'inclusione della nostra società, quindi chi è diverso in realtà è un arricchimento. Quindi quello che voi state facendo è completamente opposto a quello che dovreste fare. Mai come ora, con tutta la situazione internazionale, abbiamo bisogno di uno Stato che lanci messaggi di inclusione, che lanci messaggi di tolleranza, che lanci messaggi di uguaglianza e veramente per un futuro di pace e inclusione sociale. Voi tutto ciò non lo state facendo. Noi abbiamo bisogno di non aumentare i conflitti. Vado a conclusione, Presidente. La discriminazione non deve più trovare spazio, a partire da queste aule parlamentari fino alle scuole, agli uffici, alle case dei nostri cittadini e nelle nostre cittadine, ricordando sempre il principio sacrosanto, e lo ripeto, che rende la diversità una ricchezza perché la diversità non è una minaccia. Il Movimento 5 Stelle esprimerà voto contrario. Ricordo che l'Italia, lo ricordo a me stessa, ma forse lo devo ricordare più alla maggioranza che al Governo, che ha l'onore di rappresentare lo Stato con onore e disciplina. Io ho avuto la fortuna e l'orgoglio e l'onore di giurarlo sulla Costituzione. Mi pare che qui sta facendo il contrario. L'Italia è uno Stato laico, è uno Stato libero, è uno Stato inclusivo, è uno Stato democratico ed è uno Stato antifascista. Grazie.